anno pieno di sfide non solo Milano e Lazio ma anche Marina Sbardella contro Luca Giurato vediamo chi ha vinto entrino i concorrenti la Sardella campionessa in carica nel 98 vanno strafazzato Betello e Galeazzi beh nuovo sfidante quindi è il Milan che esce con le osse rosse bravo bravo davvero ben fatto direi valla al centro e vediamo come va e Luca subito la parola alla mia cara che allega Roberto ed è pareggio in suplex così semplice per la combinata Beverly Creek in Colorado primo posto per lo Sbuzz per lo Sbuzz per lo Svizzero anche per stamani la nostra rassegna stancca ragione di Chiusa si comincia a mettere della fantasia vai vai il giornale di Milano sceglie di aprire su questo argomento e titola le manovre di Scalfalo chi? e fa il vantaggio le manovre di Scalfalo 2 volte doppietta 4-2 chi lo piglia più? vediamo la sbardellone vediamo a dare le gracie un po' con le evoluzioni dei funamboli su pattini e a rotelli nel rostro Roller Time ma che bravo ma sei troppo bravo 4 pari ha comprato dei libri ha cercato di pagare e la cartetta di credito non funzionava bravo bravo a Richard Van Kerk Varenk si chiama Varenk ma vale a spiegare la sbardella che è un vantaggio per 7-5 io vorrei che lei si definisse davanti ai nostri telespettatori e telespettatrosi che è una bella donna ancora indietro però questo è un bel gol abbiamo detto della nazionale maggiore che sarà in campo Sabano a Copenaghen ma venerdì si è danese sentiamo siamo in grado di darvi le prime interviste a Caldeo al microfono di Enzo 9-6 il gol di ieri comunque la Lazio lancia la volata Scoletto lo sappiamo tutti come finita Sergio Zavoli c'era una volta la prima repubblica once a nappona time in America once a nappona time in America si permette il lusso delle spese in fin di leone la Coppa Italia vediamo la Coppa Italia siamo a 19 brava Marina della Fiorentina Ortega della Sandoi Simone Inzaghi del Piacenza Oliver e Hillary chi? scusate Hilario del Perugia perché mi ha confuso 12 a 9 è dura ma l'idea che possa essere più biavo bianello biavo bianello 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 scusa che possa essere nessuno lo ha capito la maggioranza deve partire con il suo capitato o secondo me che lo abbia letto grazie della cariezza no grazie della cariezza ma cos'è un laghetto alpino doppietta al novantesimo grande giurato campione 99 Luca giurato riesce a sconfiggere Marina non era facile